Ho fatto grande partita oggi, creando tantissime occasioni di gol, concedendo molto poco, però lo abbiamo subito. Complimenti ai ragazzi perché hanno giocato con un grande spirito, alzando livello, ho visto tante cose buone, pressing, dominio, gioco, creando occasioni, mancava veramente fare gol, non ultimo passaggio, ma proprio fare gol. Ne abbiamo avute troppe, poi mettiamoci rigore dentro, però la squadra è in netta crescita, secondo me si è alzato livello di difesa, di attacco, di idee. Ho visto una Roma veramente bella, un momento così negativo, però bisogna essere anche lucidi e vedere bene la prestazione. Secondo me sono stati momenti bellissimi, non è così sempre la partita, c'è momenti anche da soffrire, dove dobbiamo migliorare, diventare un po' più, diciamo, bastardi. Ci sono momenti dove devi essere più tosto, più cinico, più tutto per portare il risultato a casa, perché non è tutto dominio. Dopo gol, magari dopo tutte queste occasioni, poi fatto gol, pensiamo magari che ce l'abbiamo fatta, invece bisogna stare molto più attenti.